Mette, che materiale è usato, ma soprattutto che spessore della rete è usato per recintare tutto? La recinzione che ho installato è una recinzione maggiorata, vuol dire che il diametro della rete e dei pali è veramente robusto. Questo per farla durare il più possibile, ma soprattutto per proteggermi da future intrusioni che posso avere anche di animali selvatici. Quindi verifica sempre il materiale che stai installando e pensa che una recinzione del genere può durare anche 30 anni. Mi raccomando, quando andate a installare tutta la vostra recinzione, andate a prendere materiale che possa durare nel tempo, perché ne va dell'investimento che fate.